Se volete acquistare crediti o fifa points a prezzi bassissimi passate da mmorg, link del sito in descrizione e con il codice Henry avrete il 6% di sconto Buongiorno ragazzi sono Henry Laz, benvenuti in questo nuovo mio canale, oggi ragazzi siamo qui con il terzo episodio del FIFA Monopoli ragazzi Vi ringrazio nuovamente per il sostegno che avete dato al penultimo episodio, come lo scorso in meno di 24 ore avevamo raggiunto i like richiesti da me Quindi ragazzi nuovamente, anzi vi lancio una sfida, se arriviamo entro mezzanotte a 400 mi piace vi porto venerdì il quarto episodio della serie Quindi ragazzi subito i pollicioni e condividete il video Come è stato ragazzi passate qui sotto in descrizione per tutti i canali del livello in più, il sito di crediti, mmorg con il codice Henry avrete il 6% di sconto Quindi ragazzi a me non è stato da dire e andiamo dentro con la grafica Ok perfetto eccoci qui con il primo lancio signori, andiamo primo lancio numero 4, eccolo qui il numero 4 che è 1, 2, 3, 4 Ok andiamo subito ad andare a giocare una partita a stagioni Va bene ragazzi la squadra è sempre questa, la solita con i più forti sono Allison, Barzagli, poi abbiamo un piano di check Allin c'è là davanti Anzi anche Dani Alves, scusami Dani Alves stiamo dimenticando E niente andiamo a cercare la partita Ok e porca quindi quella puttana che squadra che ha questo Mamma mia signori, gran squadrone, noi abbiamo anche due bronzi in campo, non so cosa riusciremo a fare Buona Farias, che spunto, Farias, Farias e rigore, si calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore signori Sette minuti passati, subito cartellino giallo e calcio di rigore per noi Dai e Bianic Mettila, Bianic, Mettila, Bianic Miralem, Bianic, 1-0 Betlemme a 7 minuti Ok, Farias, occhio a Farias, ancora Farias, niente Però è buona per Mancini, metti il mezzo, Farias Per il doppio del Betlemme signori, non me l'aspettavo a dire la verità 12 minuti, anzi quasi 13, Farias Ragazzi ve lo ripeto, visto che domani danno i premi del FUTO Champions Magari, ritmelo qui sotto con un commento, se avete piacere, anzi, scrivetemi in privato, su Instagram o comunque su Facebook Se avete piacere, che ve li riscatti io, intanto, attenzione, niente Un attimo, adesso finisco la frase, il Caduri, vedi in mezzo Tira Uh, porca puttana Vabbè, comunque stavo dicendo, se avete piacere che ve li riscatti io, ovviamente quello che trovo rimane a voi Ti vado solo a aprire i pacchetti E ovviamente, se avrete magari anche un canale YouTube, ve lo vado a sponsorizzare Quindi ragazzi, ditemi se avete piacere che ve li apra io questi pacchetti speciali del FUTO Champions Basta che siano abbastanza sostanziosi, facciamo dai 35.000 crediti in su Scrivete in chat privata, che ve li riscatto io, e ovviamente a voi rimane tutto, sia crediti, sia quello che trovate E dunque ragazzi, finisce qui il primo tempo, vantaggio per noi, di 2-0 Buona Calin, centro per Agi Vai Agi, tira Agi, palo Mocca mammede Occhio Farias Occhio Farias Rimpallo contro rimpallo Farias E va bene, ha chiuso quell'armadio nero Metti in mezzo per Zagli, che cazchia Si 3-0 Nicola Calin Ma vuole sapere che cazzo ci faceva Barzali nella di rigore Vabbè, comunque, buona così Ok, buona per il Calduri Vai ai Calduri E Calduri, ancora il Calduri Rientra Mammo, calma Ok, ok, tira, Farias, tira Ma che cazzo, ma perché non hai tirato? No No, no, Sanchez, buona Alisson Ah, coglione, fai ancora il deficiente, la indifesa Io ti punisco con Mancini No, però ti punisco, Calinice 4-0 Fai ancora il coglione Dai, dai Ops Hai quittato? Ops Figlio della merda Dunque ragazzi, siamo con il secondo lancio di questa giornata Andiamo numero uno Eccolo qui l'uno Eccolo qui Che è Uno Chance La Chance Chance ragazzi E' come quell'altra volta Di andare a aprire un pacchetto Promo Un pacchetto speciale Quest'oggi abbiamo quelli da 35.000 credit Che giuro se non trovo Almeno un 83 3 più Bestemmio La madonna Quindi 35k Facciamo sì Non guardo Non guardo come l'altra volta Gesù Gesù come trovare un bel giocatore Ok, non è walk out Non è walk out Giuro che sono una merda Uno Uno Tre Sportiello Ma ce l'ho già Ma è un 82 Ma che cazzo mi serve me Sportiello Ma guarda quanti giocatori buttati via Porca di quella puttana Quanto costa Sportiello? Viene Che schifo 800 Tieni 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 Vai via Vai via Abbiamo De Maio Che però non mi piace per niente come difensore Quindi non lo tengo E abbiamo Lennon Che potrebbe costare qualcosa Vediamo Bello 900 crediti Ah beh Lì teniamo per future squad building challenges Dunque raga Andiamo con il terzo Lancio Vai Vediamo cosa c'è Sopra al letto Numero 2 Eccolo qui raga Il 2 Scusate mi ho fatto vedere bene 1 2 Bronzo Ma che schifo Che cazzo mi serve sta casella Bronzo Solo per farmi negrosire Vabbè Numero Cioè andiamo a prendere da 200 crediti Un bronzo Vediamo chi c'è a questo Mi piaci fratello Ciao Andiamo con il quarto lancio di giornata Signori Tocco due volte Ecco tre volte Numero 6 Numero 6 Eccolo qui il 6 ragazzi Che è 1 2 3 4 5 6 Top player Eccezionale Proprio lui Dunque ragazzi Uno di voi la scorsa volta Sotto nei commenti Mi ha detto che il top player Deve essere un walk out Non necessariamente Perché Top player significa giocatore Forte Tra virgolette Quindi Ero andato a prendermi Dani Alves E mi sembra davvero un ottimo giocatore Dani Alves Quindi vediamo se magari c'è un top player Come giocatore ragazzi Vado a prendermi Leonardo Bonucci 87 Davvero tanta roba E andiamo a piazzare ragazzi Al posto del bronzino Che non mi ricordo neanche più Chi cazzo sia E così ci andiamo a fare la difesa Della Juve Tra virgolette Con Barzagli Movember E appunto Bonucci Difesa tanta tanta roba Ok andiamo a prenderci questo qui Ha 23.500 credit Ma vediamo quanto ha Un contratto Un'altra forma fisica Che merda Vabbè Comunque Dovrei averci un po' di contratti Andiamo a mettere a posto di Boldor Eccolo qui Ciao Boldor Mi sei piaciuto 19 di tiro Andiamo con il quinto lancio Signori Andiamo con il quinto lancio Numero 1 Eccolo qui ragazzi Numero 1 Che è 1 Rilancio Dobbiamo rilanciare il dado Ok Non lo contiamo Quindi Ancora Dove cazzo è finito Ok Numero 6 Ancora sto cazzo di 6 Che è 1 2 3 4 5 6 Inform 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 Vediamo dove siamo carenti Nella nostra formazione Non voglio uscire Dall'ultimo Vediamo 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 Un esterno Un esterno Inform C'è solo Salah Però non so La cazzo Costa un occhio Della testa Vediamo Ok ragazzi Controllato C'è Salah In 3 versioni Scream If Sif E poi c'è anche Iago Falch Iago Falch Non mi sembra male Anche perché Mi piace Mi piace come giocatore Quindi vado A prendermelo Aspettando Che io Scassuso Questa settimana Ragazzi Se stasera Non lo fa uscire Giuro che bestemmio Perché ha fatto La doppietta Dal derby Ok Ecco Lo fanno prendere 15.000 crediti Perfetto Iago Falch E lo andiamo a mettere A costo Del mio sogi Mi avete detto Che mi assomiglia A me Questo qui Ragazzi Avete detto Che oggi Mi assomiglia Non mi sembra Per un cazzo Forse qualche Allineamento Però Vabbè Comunque Pareri vostri Ragazzi Siamo arrivati All'ultimo lancio Di giornata Andiamo Ultimo lancio Numero 2 Eccolo qui Il 2 ragazzi Che è 1 2 Apri un pacchetto Apri un pacchetto Andiamo a vedere Uno da 7.500 crediti Vediamo qua Di Maria Bello 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 Oro non raro Anzi Ero raro C'è andata anche bene Difensore centrale Ut Ok Ut Vediamo se può valere qualcosa Ut Vediamo 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 Figuriamoci se vale qualcosa Ut Quindi ti metto 8.50 E non ho quel micoglione Scartiamo Tutto Quindi ragazzi Questo video vi cerco Io spero vi sia Piaciuto come se Facciate un bel leg Ragazzi Arriviamo a 400 likes Entro mezzanotte E venerdì vi porto Il quarto episodio Vi ricordo Che se avete piacere Che vi apra Io i premi Del full champion Se poi voi Vi tenete tutte le carte Tutti i crediti Eccetera E ovviamente Vado anche a sponsorizzarvi Se avete un canale Iscrivetevi In un'altra privata Che troverete qui sotto In iscrizione Tutti i link Dei social O su instagram Su direct Oppure su facebook Sul mio profilo personale Come è solito ragazzi Tutti i canali Un'altra ru Cyber Eccetera Per Eccetera Ciao!